Questo è il diagramma HR e serve a classificare le varie stelle in base alla classe spettrale, temperatura, colore e magnitudine assoluta. Questo è il diagramma HR in cui abbiamo posizionato in base alla loro caratteristica le 32 stelle più luminose visibili da Palermo. Che tipo di stella è il nostro sole? Il nostro sole è una stella gialla, appartiene alla classe G. Cosa sono le stelle? Le stelle sono un corpo celeste che emanano luce proprie e dalle stelle possiamo ricavare energia e luce. Allora, dalla luce delle stelle noi riusciamo a capire qualcosa? Allora, studiando la luce delle stelle noi capiamo da cosa sono composte come un'impronta digitale, cioè la loro temperatura e da cosa sono composte. Osservando il cielo stellato vedremo che ci sono le stelle che hanno una luminosità diversa, cioè dovuto alla lontananza che hanno. Questa è la magnitudine relativa che è quella che vediamo dalla Terra, mentre per vedere la vera luminosità delle stelle usiamo la magnitudine assoluta. Osservando il cielo ci sono diversi tipi di colori delle stelle, le più calde sono quelle blu, poi ci sono le azzurre, le bianche, infine le bianco-gialle, le arancioni e le rosse che sono le meno calde. Osservando il cielo Osservando il cielo Osservando il cielo Osservando il cielo